Ciao, ciao a tutti, bentornati, benvenuti sul canale. Oggi siamo in compagnia per parlare della nostra rubrica mensile in compagnia di Stefania, la mia amica Stefi, del canale Parvana Stefania. Abbiamo deciso il mese scorso di iniziare una rubrica insieme dove vi parleremo ogni mese dei profumi preferiti del mese in corso o comunque dei profumi che utilizziamo di più e che ci ricordano le caratteristiche del mese in cui stiamo vivendo. Per me il mese di gennaio è un mese di transizione, un mese di letargo, è un mese che apre l'anno e che chiude l'anno vecchio ovviamente, ma è un mese in cui tutto è abbastanza tranquillo, anche la natura riposa, diciamo che a parte le temperature un po' strane che fa freddo, fa caldo, quindi nel mio giardino sono per esempio sbocciati i narcisi, veramente, ma che con questo freddo diciamo ha messo tutto a riposo e quindi sta aspettando un mese di attesa, ecco, lo potrei definire così, un mese di attesa. Per questo mese di gennaio io ho scelto 5 profumi, 5 profumi che in questo mese ho provato, ho utilizzato tanto e mi sono scritta un po' quello che mi regalano le sensazioni oltre ovviamente alle note in cui sono formulati, dei profumi quasi tutti direi molto caldi, molto avvolgenti, molto coccolosi, perché è un mese comunque freddo, è un mese in cui abbiamo bisogno di sentire magari dei profumi un po' più intensi, un po' più avvolgenti e almeno per me è così. Poi vi lascerò ovviamente nell'info box il link al canale di Stefania e ovviamente al video gemello al mio, ma partiamo subito perché abbiamo tante cose da raccontarci. Il primo profumo che vi presento è Tesori d'Oriente che vi presento, che vi racconto, non mi piace presentare. È di Tesori d'Oriente, legno di guaiaco e pepe nero, un brand che sapete ho scoperto da poco e che ho sempre un po' sottovalutato, ovviamente sbagliando, un brand che mi piace tantissimo, sto provando pian piano tutte le fragranze e per questo mese ho scelto lui perché è un profumo meraviglioso. Allora, legno di guaiaco di Tesori d'Oriente è una fragranza del gruppo Ambrato legnoso da uomo, ma io lo definirei unisex come praticamente tutti i profumi che ho utilizzato. Per me non c'è differenza tra profumo da uomo e profumo da donna, tutti si possono portare il profumo che ovviamente scelgono e che gli piace, anche perché comunque la fragranza si sprigiona in maniera molto differente sulla pelle femminile e sulla pelle maschile. C'è un pH diverso, ognuno cura la sua pelle in maniera diversa, se la pelle è più idratata il profumo sicuramente penetra di più, è molto più intenso, quindi potrei definire tutti i profumi unisex, a meno che ce ne sia proprio uno molto molto fiorito, molto molto femminile che magari un uomo preferisce non portare, però se poi a quella persona piace, chi se ne prega, io mi dico. Ma andiamo avanti. Allora, dicevamo, una fragranza del gruppo Ambrato legnoso da uomo, ma che io definisco unisex perché lo metto molto spesso. Le note di testa sono bergamotto, neroli, arancia e mandarino. Le note di cuore sono legno di guaiaco, pepe nero, cardamomo, lavanda, dragoncello e salvia. Le note di base sono fava tonca, sandalo, legno di cedro, tabacco, cumarina, muschio e iris. Allora, un profumo molto molto caldo, adesso ce lo spruzziamo, stamattina non mi sono spruzzata nessun profumo perché poi qua ci sarà un connubio di profumi. Mamma mia. Allora, si apre con una nota frizzante, molto frizzante, che vi fa quasi pruriginare il naso, non so come dirlo. È un profumo molto intenso all'inizio, quando lo spruzzate avvertite proprio questa nota molto, molto intensa e frizzante che è data, a mio parere, dal pepe. Al primo spruzzo io sento, come vi dicevo, il pepe sicuramente perché appunto è molto frizzantino e poi però sento tantissimo il cardamomo. Il cardamomo è una spezia che anche in cucina mi piace tantissimo perché regala quel tocco particolare alle pietanze, pietanze, oh mamma mia, sto parlando come la mia nonna. È un profumo molto particolare, molto speziato e secondo me il cardamomo è quella nota che regala una sensazione rotonda e calda al profumo. Quando poi pian piano si stabilizza sulla pelle e si evolve, quello che io sento è il mix di spezie da cucina, di erbe aromatiche. Quindi sento tantissimo la salvia che è un profumo che anche in cucina mi piace tanto. Io ho un cespuglio di salvia gigantesco, penso sia grande, più di un metro e mezzo nel mio giardinetto. Quando vado a raccoglierla per cucinare ci immergo le mani ed esce questo intenso profumo fresco vellutato come le foglie della salvia. È un profumo che mi piace tantissimo. E in questo profumo così caldo, avvolgente, speziato, la salvia e il dragoncello regalano anche un po' di freschezza alla fragranza. Mi piace davvero tantissimo. profumo. Poi durante la giornata, io lo spruzzo alla mattina prima di uscire, prima di andare in ufficio, lo sento intensamente per 5-6 ore. È un profumo che rimane davvero tantissimo sulla pelle. Mamma mia com'è buono. Ho questo sentore di foglie di tabacco. Il tabacco, vabbè, io sono una fumatrice, penso lo sappiate, una fumatrice in tarda età. Il mio papà è stato purtroppo un fumatore, non lo dico con orgoglio perché so che non dovrei fumare, ma questo è. E il profumo del tabacco è uno dei profumi al mondo che mi piace di più. Il tabacco però non bruciato della sigaretta. Quel tabacco da pipa che quando il mio papà fumava la pipa, e Paolo fuma la pipa e mi piace tantissimo alla sera quando si siede al tavolo e accende la sua pipa. C'è tutto un rito sulla pipa e io vi dirò che ho provato a fumare la pipa per qualche mese, ma è un rito troppo lungo. Bisogna aver pazienza e io sono una persona che ovviamente non ha pazienza. Ma il profumo del tabacco quando voi lo prendete dal sacchetto sprigiona un'intensità meravigliosa. Mi piacciono soprattutto i tabacchi aromatici e le foglie di tabacco che sento in questo profumo ovviamente sono mischiate a tutte quelle note aromatiche che sono le note di questa fragranza. È un profumo molto intenso che si attacca alla vostra pelle che non la lascia e il profumo del tabacco in questo profumo su di me rimane praticamente fino a sera. È un profumo che non devo spruzzare più volte al giorno, è un profumo molto intenso, un profumo caldo, un profumo avvolgente. Si sente poi alla fine il sandalo, il legno di cedro, queste note così meravigliose che mischiate insieme regalano una fragranza secondo me di tutto rispetto. Mi viene anche da suggerire che potrebbe essere un profumo non con un prezzo così basso. Lo possiamo trovare nella grande distribuzione dai 2,50 euro ai 3,99 euro generalmente se lo trovate al Tigotà, acqua e sapone, al Caddis, al supermercato, insomma da tutte le parti ha più o meno questo range di prezzo e lo vedrei tranquillamente in una bottiglia di vetro di un marrone scuro satinato perché è un profumo davvero per me meraviglioso. Come sempre cerco di collegare un'immagine a questo profumo, me la sono scritta altrimenti poi mi confondo e l'immagine che ho collegato è di una piccola sala in un castello adibita a biblioteca con degli antichi volumi rilegati in pelle e dei mobili in leno massiccio, dei mobili dove c'è qualcuno che si prende cura, dove vengono lucidati spesso, dove c'è questa cera molto profumata, una cera molto speziata che appunto regala lucidità, regala eleganza a questi mobili antichi e diffonde il suo profumo all'interno di questa stanza. A me è capitato di entrare in qualche biblioteca antica e c'è questo proprio profumo così intenso di mobili di pelle che magari è dato anche dalla pelle in cui sono rilegati i volumi che sono contenuti in questa biblioteca. E la scena che mi si para davanti è quella di un camionetto acceso, una poltrona di cuoio un po' consunta, un po' vecchia, dove ci si può sprofondare, leggere un bel libro e da parte c'è, perdonatemi, l'immagine da ubriacona, c'è un bel bicchiere di whisky o di cognac, che era il liquore preferito del mio papà e nulla, mentre si legge appunto si assapora goccia per goccia questo liquore molto forte che ti scaldano, quando lo bevete proprio vi scalda il gargarozzo come si dice e regala questa sensazione di piacevole intimità che vi avvolge con la stanza in cui siete seduti in questa poltrona. Ecco questa è un'immagine che secondo me rappresenta benissimo questo profumo, un profumo sicuramente invernale, un profumo molto caldo, molto coccoloso che ci regala davvero una coccola particolare, un profumo che io se non l'avete mai provato vi consiglio, anche perché per il prezzo che ha, se non vi piace lo spruzzate nell'ambiente, nell'aria, ma sono sicura che se amate come me i profumi caldi, avvolgenti, coccolosi, questo profumo lo troverete veramente delizioso e meraviglioso. E questo è il primo profumo, la prima fragranza. La seconda fragranza è Love Generation Rock di Jeanne Artesse, che è un brand che mi piace tantissimo, ho tantissimi profumi, il suo pack esterno è questo, bellissimo, con questi disegni molto rock, molto particolari, con delle rose, c'è un cuore molto molto bello. e il suo fracone lo è ancora di più, molto particolare, bellissimo, bello, bello, bello. Questo è un profumo, tutti i profumi, no, a parte Tesori d'Oriente e un altro, sono profumi che ho comprato al buio, ma sapete che io compro spessissimo senza sentire le fragranze, basandomi solo sulle note che leggo e non ne sono mai rimasta delusa. Questo è un profumo che ho acquistato grazie alla descrizione che ha fatto Debbie, del canale Debbie My Life, che ringrazio, ciao Debbie se mi vedi, e mi sento molto in sintonia con lei sia per l'età che per, diciamo, la preferenza dei profumi, tutti i profumi che lei consiglia, che lei racconta, poi io prima o poi li vado a provare, li vado ad acquistare e non sono mai rimasta delusa. Vabbè, questa bocgettina è davvero, davvero bellissima. In vetro. E questo profumo è molto, molto particolare. È buonissimo, mamma mia. Allora, è una fragranza del gruppo Ambrato Floreale da Donna. È stato lanciato nel 2010 e la nota di testa è zafferano, timo e mandarino. Le note di cuore sono ylang ylang, giglio e orchidea. Le note di base sono vaniglia, fava tonca, legno di rosa brasiliano e quercia. Allora, quando io ho acquistato questo profumo e me lo sono spruzzato, perché generalmente alcune volte mi capita, ma veramente, che acquisto i profumi e poi per non aprirne troppi li lascio nello scatolone ben nascosti e quindi non me li assaporo subito, non me li gusto subito. Quando ho provato questo profumo, continuavo a pensare che c'era una nota che conoscevo, ma che non riuscivo a definire, non riuscivo a immaginare. Cercavo di capire cosa fosse, ma non riuscivo a localizzarla. Poi, quando ho avuto un attimino di tempo, sono andata a rileggermi ovviamente le note, perché io l'avevo acquistato leggendo le note e quindi pensavo mi potesse piacere e così è stato, perché lo amo alla follia. E leggendo lo zafferano, lo zafferano mi è subito venuto in mente che la nota particolare che rimane dall'inizio alla fine in questa fragranza è lo zafferano. Anche lo zafferano è una nota che in cucina mi piace tantissimo, la uso sia per fare il risotto, la uso per fare del pane, la uso per fare dei crackers, è una nota molto caratteristica, che ha un profumo molto particolare e in questo profumo c'è, c'è sempre, dal primo spruzzo all'ultimo spruzzo, cioè rimane sempre. Mi ricordo benissimo qualche anno fa quando Pietro iniziò la sua carriera da contadino e ha piantato nel nostro micro giardino lo zafferano. Poi lo abbiamo raccolto, non erano tantissimi, ci abbiamo fatto un bel risotto e questi pistilli così dorati, poi sminuzzandoli con le mani, avevano questo profumo molto intenso, molto caratteristico, un profumo molto prezioso, ecco, lo definirei davvero un profumo molto prezioso. Quindi, diciamo, regala quella nota metallica, lo zafferano, ha questo profumo ed è una nota molto particolare che magari potrebbe anche non piacere. È un profumo intenso che anche questo rimane su di me tutta la giornata, rimane sugli indumenti più giorni, si sente un profumo meraviglioso. Poi ci sento proprio il mix dello zafferano con il timo, questo profumo del timo, anche questo è un'erba aromatica che io ho nel mio giardino, è un profumo fresco, quasi balsamico. Se voi andate a toccare con le mani le piccole fogliette del timo e lo sbriciolate quando magari lo dovete usare in cucina, ha questo profumo, sembra quasi di averlo sulle mani, così balsamico che mescolandosi con lo zafferano, questa nota un po' metallica dello zafferano, davvero è un mix molto molto particolare che regala un'intensità pazzesca a questo profumo. Vediamo poi che cosa mi sono scritta che non vi ho ancora detto. Allora, all'inizio appunto sentite queste due note che prevalgono sulla fragranza, poi pian piano si avverte anche la rosa, il giglio e l'orchidea che regalano intensità. Regalano, c'è questo bouquet molto fiorito, ma molto molto intenso. È una fragranza che poi quando si stabilizza sulla pelle appunto avvertite anche leggermente il profumo del legno di rosa che non è proprio come quello della rosa. è un po' più... la rosa è più fiorita, più dolce, più intensa. Qui sento più il profumo del legno, quindi quel profumo sì della rosa ma mescolato alla fumosità del legno. E' un profumo davvero intenso e meraviglioso. Io in queste ultime settimane l'ho usato davvero tantissimo, anche sul luogo del lavoro. è un profumo che fa scia, è un profumo che dura tutta la giornata, come vi ho detto. Un profumo molto ricco, un caldo abbraccio. E per questo profumo l'immagine che mi sono regalata, perché poi un conto è usare i profumi a livello personale, quindi un profumo mi piace, più di tanto non sto lì a pensarci, le note le guardo le prime volte che lo utilizzo, poi dopo insomma se il profumo mi piace io me lo spruzzo. Ma raccontarvi il profumo, raccontarvi le sensazioni non è proprio molto semplice. Cercare di farvi immaginare quello che io sento, che poi non sarà sicuramente quello che voi sentite. Probabilmente magari utilizzando questo profumo qualcuno ci sentirà, ci sentirà qualcos'altro, no? Non è facile descrivere e raccontare i profumi ad altre persone, perché mi è capitato per esempio di consigliare un profumo a qualche amica e questa amica ovviamente quando poi l'ha utilizzato mi ha detto ma sai che io non sento quello che ci senti tu, io sento un'altra cosa ed è il bello del profumo, perché ovviamente ognuno di noi lo personalizza con la propria pelle, con il proprio vissuto, in base a dove siamo, il profumo reagisce anche con quello che abbiamo, con quello che c'è intorno a noi, no? Comunque è un profumo meraviglioso e l'immagine che io ho collegato a questo profumo è questa di un caldo abbraccio in una giornata soleggiata ma molto fredda e ventosa come quelle che ci sono state in questa ultima settimana, molto molto fredde e molto molto ventose che hanno portato anche la neve sulle nostre montagne, ma per fortuna non in città, per fortuna non lo so, mi sarebbe piaciuto rimanere bloccata da una bella nevicata. È l'immagine di una persona che esce a fare una passeggiata sulle rive del lago, in questo caso io ho immaginato il mio lago in una bellissima giornata appunto soleggiata ma molto molto ventosa, quindi queste onde che si infrangono sulle rive del lago e che ci regalano un paesaggio meraviglioso di queste montagne molto limpide perché appunto il vento spazza le nuvole nel cielo e questa immagine bianca candida della neve sulle cime delle montagne. È un profumo che secondo me regala il meglio di sé in una stagione molto molto fredda. Io l'ho comprato in autunno, non l'ho ancora provato in una stagione calda e vorrei proprio capire appunto quando ci sarà il caldo come sarà la sensazione di averlo sulla pelle se con questa intensità magari regala anche un po' di fastidio, non lo so, comunque un profumo davvero avvolgente e persistente e secondo me proprio la stagione fredda fa cogliere una per una le note che ci sono soprattutto io come vi dicevo ci sento lo zafferano, ci sento il timo, poi c'è questo sprigionarsi di bouquet molto intenso di fiori molto molto profumati perché il giglio, l'orchidea sono comunque alcune orchidee sono profumate ma il giglio è veramente profumato e alcune volte può anche dar fastidio, può far venire mal di testa e questo legno di rosa che diciamo accarezza alla fine questa fragranza e quindi lo fa rimanere comunque intenso si sente ma gli dà anche una delicatezza alla fine della giornata anche se su di me non diventa un profumo intimo io fino alla fine lo sento e non ho bisogno di rispruzzare anche questo troppe volte l'ho pagato, ecco mi stavo dimenticando, quindi sono 60 ml, io l'ho comprato su Notino e l'ho pagato 6,25 euro ho notato che questi profumi alcune volte ci sono, alcune volte scompaiono, poi dopo ritornano sono comunque un prezzo davvero assolutamente irrisorio per una fragranza così bella e così particolare e anche questo io ve lo consiglio, ovviamente ve li consiglio tutti terzo profumo che è uno dei più amati del 2022 è foglie di tè di l'erbolario questo profumo non l'ho comprato al buio, l'ho comprato a ottobre quando sono andata all'erbolario e ho acquistato il calendario dell'avvento per Lucia e altri profumi per me, ne ho alcune adesso di fragranze dell'erbolario ma questa è una delle mie preferite allora foglie di tè di l'erbolario, una fragranza del gruppo aromatico unisex e sono perfettamente d'accordo è una nuova fragranza lanciata sul mercato nel 2021 ed è una fragranza alle foglie di tè le note sono foglie di tè olong o olong verbena menta acquatica assoluta di mate per me è come vi dicevo uno dei migliori profumi che ho provato nel 2022 e sarà sicuramente perché purtroppo lo sto finendo perché lo spruzzo come se non ci fosse un domani sarà una di quelle fragranze di erbolario che finché ci sarà io la comprerò anzi la prossima volta non mi accontenterò di un 50 ml ma vado addirittura al 100 leggendo un po' le recensioni che ho trovato su fragrantica la maggior parte lo definisce un profumo fresco, primaverile, allegro, non troppo intenso allora secondo me alcune caratteristiche ci sono c'è la freschezza che poi si rivela nella fragranza ma io lo trovo un profumo molto intenso avvolgente un profumo che se mi spruzzo sulla sciarpa o sulla mantella che ovviamente utilizzo al lavoro perché fa un fresh allucinante lo sapete già e non ve lo dico perché sennò mi lamenterei sempre è una fragranza che io sento in maniera molto persistente allora sicuramente è un profumo che possiamo utilizzare in una stagione mite e in una stagione calda perché probabilmente diciamo quelle che sono le note più fresche quindi la verbena, la menta escono e si fanno sentire ma vi dirò che io sento delle note che non sono incluse in questo profumo allora lo trovo su di me è un profumo molto intenso, fragrante, legnoso e tabaccoso anche se nelle note non c'è il tabacco probabilmente le foglie del tè o l'olong o comunque l'assoluto di mate danno su di me questa intensità è un profumo che io amo, amo, amo alla foglia me lo spruzzo sulla mano perché non so più dove spruzzare è buonissimo allora io le prime note che sento sono sicuramente sicuramente il tè e poi io ci sento del tabacco anche se non c'è o comunque una foglia una foglia quasi un profumo ossidato probabilmente il tè o l'olong o sono andata a vedere è un tè che ha un procedimento di ossidazione di semiossidazione che regala alle foglie di questo tè è una caratteristica particolare di farle diventare di un blu un verde che vira al blu e magari è stato pensato anche per questo il colore del bollettino blu una fragranza molto aromatica il tè si sente come vi dicevo io sento anche un profumo di tabacco anche se qui non è specificato non lo definirei una fragranza fresca io per me una fragranza fresca estiva è una fragranza come quelle di Elisabeth Arden al tè verde o al tè con il melograno o al tè con la menta al tè col figo cioè tutte queste declinazioni che sono uscite delle fragranze di Elisabeth Arden ecco queste secondo me sono prettamente profumi estivi profumi primaverili, profumi freschi profumi allegri e frizzanti questo secondo me per come si è comportato sulla mia pelle non lo è lo trovo un profumo assolutamente indicato per la stagione invernale l'altro giorno ho visto un video di Mauro di Mauro e Profumi ciao Mauro e infatti ti dicevo appunto che avrei poi fatto un video presto su questo profumo perché anche secondo me è un profumo che dà il meglio di sé e sprigiona tutta la sua meraviglia nella stagione più fredda allora le note di questo profumo non sono tantissime come avete visto ma non lo ritengo assolutamente un profumo banale lo trovo costruito, bilanciato, equilibrato e dopo le prime ore risulta meno intenso un pochino più fiorito ed esce un po' quella nota fresca della menta dopo qualche ora la sento mamma mia è meraviglioso verso la fine diciamo dopo l'intensità di questo abbraccio con il tè e poi comunque con questo tabacco che non esiste ma che io sento alla fine il profumo diventa un pochino più fresco diciamo che la nota del tabacco la nota del tè la sento meno forte e ci sento come se ci fosse un'altra nota che comunque non è presente nella descrizione che è la nota della scorza di limone mischiata con la menta regalano effettivamente una freschezza a questo profumo l'immagine che mi viene in mente è quella di una sala da tè agli inizi del novecento in stile Liberty entrando c'è un'atmosfera un po' fumosa data dal fumo della pipa o dei sigari con dei tavolini in ferro battuto e hanno in questi tavolini il ripiano di marmo con delle venature grigie una coppia è seduta e sta leggendo un giornale e ha davanti a sé una miscela fumante di tè molto profumato un profumo che io vi consiglio assolutamente è un profumo per me meraviglioso io me ne sono innamorata e come vi dicevo è uno dei miei preferiti del 2022 allora io l'ho acquistato in negozio e l'ho pagato 25,90 euro per 50 ml online lo trovate anche a qualcosina di meno comunque dai 18 euro ai 26 il range di prezzo è questo ma secondo me li vale tutti e sicuramente lo ricomprerò perché mi è piaciuto tantissimo ed ora veniamo al gioiello di questi 5 profumi stiamo parlando di Safina presumo si dica così di Rasasi allora questa è la sua confezione esterna in cartone molto orientaleggiante e all'interno abbiamo un piccolo gioiello oltre che nella confezione che trovo particolarmente elegante con questo tappo in plastica che però davvero ricorda il vetro e questa splendida questo splendido flacone in vetro che davvero lo fa diventare un profumo elegantissimo allora una fragranza del gruppo cipriato floreale da donna ma anche questa secondo me può essere tranquillamente usata da tutti le note di testa sono alleidi, note verdi, bergamotto e rabarbaro uno spettacolo le note di cuore sono rosa, ylang ylang, rizoma di iris e gelsomino le note di base sono muschio di quercia, cipresso, castoreo o castoreo sandalo, paciuli e resine questo profumo per me è un capolavoro ma non solo per me sono andata a leggermi un po' di recensioni ed è un profumo amato da tantissime persone un profumo dalle caratteristiche vintage anche se vintage non è non sono riuscita a reperire l'anno di uscita ma se non ricordo male dovrebbe essere 2019-2020 ma non ne sono sicura prendetela così perché mi era parso di leggerlo da qualche parte ma poi non l'ho più trovato un profumo raffinato misterioso elegante intenso persistente secco un profumo che sicuramente non piace a tutti un profumo molto particolare un profumo complesso che io definirei egregiamente formulato la nota del rabarbaro e la nota degli aldeidi sicuramente regalano quel sentore retro vintage che è l'anima di questo profumo qualcuno leggendo nelle recensioni l'aveva anche paragonato alle note che si trovano in Chanel numero 5 che io ho provato e al momento non mi piace dico al momento perché è sicuramente un profumo che va studiato che va assaporato che ci vuole un po' di tempo per amarlo non dico che non mi piace però quando l'ho sentito non era proprio nelle mie corde allora qui gli aldeidi e il rabarbaro davvero regalano quella secchezza quel profumo intenso e molto particolare vintage dei profumi degli anni 80 e 90 allora lo spruzziamo che così intanto ve lo dico perché questo è un profumo stupendo di più di più per me è un capolavoro è buonissimo è buonissimo veramente se voi non l'avete mai sentito mamma mia che spettacolo di profumo allora leggiamo cosa ho scritto perché non vorrei poi fare confusione allora la nota del rabarbaro e degli aldeidi sicuramente regalano quel sentore retro che vi dicevo accompagnano la fragranza per tutta la sua durata questo lo spruzzate la mattina non dovete più rispruzzarlo perché è davvero molto molto intenso lascia la scia è un profumo che vi avvolge che quando voi passate le persone vi guardano e vi dicono ma che cosa stai indossando mi è capitata questa cosa al coro l'avevo messo l'avevo messo alla mattina poi sono andata a cantare alla corale e una mia vicina di coro una mia amica mi dice ma che profumo hai è un profumo particolare è un profumo d'altri tempi questo è safina di rasasi buonissimo allora dopo averlo spruzzato allora sentite all'inizio sicuramente l'aldei del rabarbaro quella nota appunto amarogna del rabarbaro che io adoro è proprio anche in cucina un'erba una pianta che mi piace anche se non trovo molto spesso e la devo ordinare dal mio fruttivindolo poi dopo la prima ora diciamo si assesta sulla pelle e esplode veramente esplode questo mix di fiori dal profumo molto intenso quindi sicuramente voi sentite l'iris sicuramente sentite il gelsomino ci sta davvero benissimo e a questo punto regala un'intensità così forte un profumo così intenso che confonde e inebria ecco io sono mi sono scritta queste due parole cioè può essere un profumo inebriante è buonissimo si abbandona poi a delle note più maschili come il sandano e le resine e ci ritrovo anche un sentore animalesco che presumo sia dato dal castoreo o castoreo non so come si dice e che spero che sia una nota sintetica perché so che adesso tutte queste diciamo essenze animali non sono più permesse giustamente nei profumi però davvero c'è quel sentore quasi di di pelle di pelle di animale e su fragranti che l'ho trovata inserita su notino invece non c'era un odore di pelle di animale molto sensuale molto sexy un profumo che conquista chi vi sta intorno un profumo secondo me da corteggiamento una donna quando lo mette sa che sicuramente un uomo la sta guardando ma anche il contrario un uomo quando lo mette sa che un'altra persona un uomo o una donna lo sta guardando perché è un profumo che non passa assolutamente inosservato un profumo completo intelligente misterioso adatto ad una donna o a un uomo eleganti senza tempo e senza età che non hanno bisogno di chiedere nulla perché hanno già tutto ma non in termini materiali un uomo o una donna un uomo o una donna che sanno di avere il mondo ai loro piedi che hanno nel DNA mamma mia sto non taglio e non rifaccio che hanno nel DNA la signorilità quello stile perfetto che li fa sempre sentire adeguati in ogni situazione con qualsiasi tipo di abbigliamento anche se sono in ciabatte e tutte da ginnastica mi si sono parate davanti queste due immagini allora un uomo e una donna che sanno sempre di essere nel posto giusto potrebbero essere tra le dune di un deserto sul dorso di un cammello con un tramonto al finire della giornata oppure in una via del centro con le braccia cariche di pacchetti un cappotto color cammello una sciarpa di seta e gli sguardi dei passanti che al loro passare si girano e regalano ammirazione questa è l'immagine che mi ha dato questo profumo un gioiello meraviglioso ad un prezzo stupido che potrebbe essere davvero un profumo non so come dire da avere anche se lo si spruzza o ce lo si mette una volta ogni tanto quando si vuole avere davvero il mondo ai propri piedi può essere però un profumo sicuramente che non piaccia a tutti perché ha queste note davvero molto intense e molto forti degli aldeidi e del del rabarbaro che potrebbero potrebbero non piacere e anche quel profumo animalesco che non sempre a tutti fa piacere sentire per me è un gioiello di profumo io questo profumo l'ho comprato anche qui a scatola chiusa su notino 100 ml 10,50 euro ma questo è un profumo che potrei paragonare a dei profumi da 150 euro che io non posso permettermi e non comprerò mai assolutamente meraviglioso ed ora passiamo all'ultima fragranza che è questa Reflecting Celebration di Zara una delle ultime fragranze entrata nel mio parco profumi che ho acquistato di recente penso meno di due settimane fa ma che come vedete ho già utilizzato parecchio allora Reflecting Celebration di Zara è una fragranza del gruppo da donna ma anche qui non è importanza non è rilevante è una nuova fragranza uscita nel 2022 100 ml io l'ho pagata 19,95 perché come una sciocca li ho comprati prima che ci fossero i saldi ma adesso che sto diventando un'esperta degli acquisti ovviamente aspetterò che ci siano i saldi per provare i profumi di Zara allora mettiamolo anche qui sulla mano perché il profumo di Safina mi sta inibriando oh allora questa fragranza nasce come vi dicevo nel 2022 il naso di questa fragranza è Gio Malone in collaborazione con Zara so che non è l'unico profumo ma ha fatto una serie di profumi in collaborazione le note sono pochissime la nota di testa è Pompelmo la nota di cuore è l'arancia e la nota di base è il palo santo allora palo santo a go go buonissimo allora il palo santo è un legno incenso del Sud America giusto sì che io amo perché ho in casa Pietro due anni fa a Natale me ne regalò un piccolo bastoncino voi lo bruciate lo mettete in un brucia incenso e sprigiona questa fragranza molto intensa molto legnosa molto fumosa che sa di incenso profumato che vi regala benessere proprio come aromaterapia e purifica l'aria lo accendo spesso in casa adesso è quasi finito ma lo andrò a ricomprare perché mi piace tantissimo e è un profumo quasi che definirei mistico perché io sento molto piuttosto che le altre due note ci sento molto il Pompelmo l'arancia non la sento molto ma il Palo Santo secondo me è la nota preponderante dall'inizio alla fine di questo di questo profumo allora il suo aroma l'aroma del Palo Santo può essere definito legnoso muschiato con sfumature di limone pino e spezie e dà proprio l'idea dell'incenso secondo alcune persone poi il Palo Santo ha un leggero odore di menta e ricorda la salvia e l'eucalipto provandolo in questi giorni alla fine questo mix di tre note ma che ha il Palo Santo che ha tutte queste caratteristiche molto profumate molto incensate molto legnose l'ho trovato un profumo mistico e balsamico io ci sento veramente come qualcuno lo descrive anche l'eucalipto che ha proprio quella nota balsamica ha poi la freschezza regalata sempre dal dal Palo Santo che ricorda magari un po' la salvia come qualcuno dice ma anche qui io ce la sento e poi c'è l'amaro della buccia del pompelmo del succo di pompelmo quel profumo che regala freschezza e ariosità secondo me a questa fragranza è una fragranza molto molto piacevole mi piace tantissimo una fragranza da tutti i giorni da ufficio da università non troppo impegnativa ma non per questo banale la nota incisiva ovviamente è il Palo Santo che poi pian piano evolve e rimane lo sentite fino alla fine non ha una durata eccessa dura sulle su di me sulle 3-4 ore non di più ma poi sapete che per me non è un problema perché lo rispruzzo un profumo quasi mistico da riflessione si sente tantissimo sembra quasi di bruciare un legnetto di Palo Santo allora diciamo un profumo che avendo appunto queste tre note queste tre note rimangono non ha un'evoluzione particolare come lo spruzzate rimane fino alla fine tranne poi magari trasformarsi un pochettino il Palo Santo diminuisce di intensità ed esce il Pompelmo e queste note magari della salvia e del eucalipto che comunque sono delle caratteristiche sempre della fragranza del Palo Santo l'immagine che affianco a questo profumo è di una donna molto sportiva molto easy che è Joal che esce per una passeggiata nel quartiere con il suo cagnolino sì scusate mi è venuta alla mente questa immagine che esce con il suo cagnolino con un abbigliamento sui colori del nocciola panna vaniglia una bella sciarpona intrisa di questo profumo e un giaccone sportivo molto avvolgente molto caldo che la riscalda e che quindi gli permette di stare all'aperto anche se fa molto freddo una fragranza confortevole che riscalda una fragranza sicuramente da sciarpa e che regala appunto una piacevole sensazione di comfort un profumo confortevole adatto alle prime ore della giornata ma anche a un pomeriggio anche ad una sera non è invadente abbastanza persistente per quelle 3-4 ore e mezza non di più e poi se appunto volete risentire ancora l'intensità di questa fragranza mistica e balsamica basta rispruzzarla una fragranza che mi piacerebbe anche spruzzare nell'aria perché avendo questa nota molto caratteristica del palo santo sicuramente vi regala un benessere psicologico e interiore che è perfetto per questo profumo è perfetto appunto da sentire sulla pelle e sugli indumenti e io aspetterò la primavera con queste 5 fragranze non ci sono ovviamente nella mia collezione sono queste quindi ne sto già provando altre 3 o 4 che vi voglio presentare in un prossimo video e sono tutti profumi low cost spero di avervi tenuto compagnia io vi ringrazio anche per tutti i commenti e tutte le bellissime cose che mi avete detto nell'ultimo video che era il video tag e che mi ha fatto sentire amata apprezzata accettata per quello che sono e che mi ha permesso anche di approcciarmi a questo video con molta più nonchalance anche se ci sono stati degli errori ma io sono così l'ho detto nel video e so sicuramente che chi mi segue con affetto apprezza anche la mia imperfezione ringrazio ancora Stefania per questo bellissimo progetto questa rubrica che stiamo facendo insieme e che mi permette di conoscerla meglio anche sotto il punto di vista delle fragranze che lei ama non so ho visto soltanto in fotografia chiaramente le fragranze che lei ha scelto come io ho fatto vedere a lei le mie ma aspetto con gioia e curiosità di sentire le sue splendide descrizioni il suo raccontare i profumi le sue emozioni e le cose che gli ricordano io vi auguro un felice weekend spero che possiate riposarvi godere del calduccio della vostra casa perché fuori fa un freddo pazzesco almeno da noi la neve è arrivata sulle montagne e godiamoci questi meravigliosi spettacoli che il nostro paesaggio e la nostra natura ci regala vi abbraccio vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao